Buongiorno, siamo arrivati all'appuntamento con il commento delle notizie giornaliere, prima pagina, insieme a Gaetano Alaimo, direttore di Newtusha.it, buongiorno. Buongiorno, ben trovati ai radioascoltatori, a te gioia. Allora, dunque, andiamo subito, velocemente, a dare un'occhiata. C'è molta cronaca, purtroppo quella più brutta è quella del ragazzo che l'altro ieri ha avuto l'incidente a Velletri, dove ha perso la vita un ragazzo di Valentano. Anche tu ho visto che hai messo la notizia, anzi forse è stato uno dei primi a darla come notizia. Sì, purtroppo è un'altra ennesima brutta notizia, anzi drammatica, dei nostri giovani, non nel territorio della provincia di Viterbo, in questo caso a Velletri, nei territori dei Castelli Romani. Per la cronaca un valentanese, Daniele Ingiosi, di 21 anni, è morto schiantandosi con la sua Smart contro un furgone Fiat Ducato. Pare che purtroppo anche qui l'alta velocità abbia inciso molto su questo incidente. Sì, purtroppo i giovani e giovanissimi hanno una cultura base del codice della strada, però spesso si lasciano andare a una guida un po' troppo veloce. Quindi questo è un ennesimo esempio di questi fatti così drammatici. E la chiudiamo qua facendo le condoglianze alla famiglia perché a me, e queste notizie sa, io preferisco passarci un po' perché se non permettere per puntualizzare sul fatto di stare molto attenti, di non fare attenzione a non correre troppo con le macchine. Però al di là di questo non possiamo dire nient'altro. Mi associo anche io come redazione di New Duscia per la famiglia. Poi l'altra notizia di cronaca di ieri è che hanno beccato un signore che aveva diverse cosettine che scottavano un po' questa cultura dei tombaroli a Viterbo, soprattutto a Montalto e Tarquinia dove si trovano ancora dei reperti. E hanno beccato questo signore che in pratica aveva delle cosette. Sì, parliamo anche in questo caso di un residente del comune di Valentano, un uomo di 68 anni, è stato denunciato per ricettazione. Durante i numerosi servizi che sono predisposti normalmente dai carabinieri del comando provinciale, sono stati rinvenuti alcuni reperti storici, storico-artistici, tra cui un vaso etrusco del VI secolo a.C., tre monete in argento, una moneta in bronzo ed una in oro dell'epoca romana. Una fibula in oro dell'epoca etrusca e varie statuette di epoca egizia. Quindi un piccolo tesoretto che questa persona non è l'unico, sappiamo quanti purtroppo si sono arricchiti nella provincia di Viterbo. In un territorio molto ricco di reperti, soprattutto etruschi, siamo nella zona della vecchia bassa Etruria. E quindi una brillante operazione, speriamo dei motivi per quanto possibile altri recidivi a questo tipo di furto e di reato. Un'altra notizia di cronaca che troviamo su newtusha.it è la violenza sessuale sulle due minori. Io non so che tanto qua non possiamo neanche qui né parlare né commentare, perché ancora ci sono le indagini in corso, devono essere interrogate le due bambine. Insomma, questa è una cosa un po' scottante. Sì, ci riferiamo a mio giudizio a uno dei casi di cronaca più gravi degli ultimi mesi. Parliamo della... sembra purtroppo avvenuta e accertata violenza sessuale nei confronti di due bambine di 6-8 anni, con appunto purtroppo direttamente i genitori coinvolti ed un imprenditore di Capranica che avrebbe addirittura filmato queste scene schifose. Scusi il gergale, ma è quello che mi viene direttamente da dire. A me anche è di peggio. Assolutamente. La squadra mobile di Fabio Zampaione, coordinata dal PM Paola Conti, sta facendo le indagini approfondite e nei prossimi giorni potrebbero esserci le prime richieste di arresto. Dicevo, sembrano accertate queste azioni da alcuni rilievi ambientali che quindi avrebbero appunto del materiale che inchioderebbero sia i genitori che gli imprenditori di Capranica che però mediante il suo legale si è detto del tutto estranei fatti. Quindi attendiamo le prossime ore. Certo che non poteva dire che era colpevole. Assolutamente. E poi sul fatto dei genitori io farei un occhio di riguardo nel dire della madre anche coinvolta perché sembra che ci fosse anche violenza all'interno della famiglia non solo nei suoi confronti ma anche del figlio, hanno anche un figlio maschio. Di 15 anni, noi questo l'abbiamo per motivi di certezza non messo però sembra appunto da ulteriori approfondimenti che ci fosse una situazione di degrado familiare e quindi accertata dagli assistenti sociali. Infatti bisognerebbe sempre prendere un po' di fare tutta un erba a un fascio e fare del distinguo tra madre e padre anche perché sappiamo benissimo come si innescano certi meccanismi nelle famiglie. Però adesso voltiamo pagina e parliamo di una cosa positiva cioè che a Vittorchiano l'acqua è di nuovo potabile. Sì, è una vicenda che va avanti da mesi, era stata pure oggetto di scontro tra la minoranza di centrodestra e il sindaco Olivieri dopo gli ultimi rilievi dell'ASDL l'impianto di arsenificazione che è stato realizzato ormai da un po' di tempo finalmente i parametri sono sotto il livello di guardia quindi questa è una grande notizia per un paese importante della provincia di Viterbo speriamo che anche qui a Viterbo tapoluogo Io stamattina ho fatto un appello al sindaco nostro ci dia anche lei una bella notizia che ci dica che anche a Viterbo prossimamente potremmo avere un'acqua non dico pulita ma nei termini di legge Sì, poi l'abbiamo trattato anche nelle scorse volte sappiamo che c'è un dibattito aperto c'è una polemica in alto anche dal presidente della provincia Meroy l'assessore Refrigeri regionale in quanto sembra che l'assessore regionale non abbia fatto nei tempi previsti le dovute azioni quindi attendiamo anche qui delle belle notizie sarebbe ora insomma Va bene, l'ultima notizia che andiamo ad analizzare è quella della Lega Nord di Viterbo Sì, c'è stato appunto un commento che i vertici provinciali della Lega Nord di Viterbo con Umberto Fusco e Pinna Maurizio Pinna fanno nei confronti della manovra economica di Renzi e questa è una appunto sarà oggetto il 25 prossimo a Roma di una manifestazione che vedrà uniti tutti i sindacati partiranno decine di pullman dalla provincia di Viterbo appunto per criticare le manovre la manovra economica che complessivamente è una delle più pesanti degli ultimi decenni sembra, è una molto molto pesante la critica viene fatta innanzitutto sulle misure che sono, sembra più, questo per dato di cronaca più di uscite che di entrate quindi questo porterà ulteriore deficit sembra all'Italia tra i punti più criticati la riforma della pubblica amministrazione dell'articolo 18 che è questo più che altro criticato dai sindacati l'ironia della sorte che lo stesso ministro del lavoro Poletti è notoriamente il ministro più a sinistra del governo Renzi al capo della Lega Coop e questo in qualche modo stride un po' con le sue origini sembra che l'articolo 18 in realtà non verrà del tutto abolito ma ci saranno delle modifiche in relazione a determinate categorie quindi i sindacati comunque sono pronti allo sciopero generale mentre la Lega Nord critica soprattutto le misure nei confronti delle piccole e medie imprese sulla tassazione e su problemi riferiti appunto all'elettorato di riferimento quindi staremo a vedere come si evolverà la situazione Va bene, allora io ti ringrazio molto salutiamo il direttore di newtusha.it Gaetano Laimo tornerà di nuovo martedì prossimo dove rifaremo una disamina delle varie notizie che accadranno in questi giorni c'è qualche cosa di particolare che... Sì, noi chiaramente ricordo noi abbiamo il nostro canale facebook dove potete vedere tutte le notizie per ogni pubblicazione la parte web tv dove noi mettiamo sia dei contenuti da teleorte sia nostri originali e siamo anche delle novità che poi puntualmente vi riferirò prossimamente D'accordo, grazie, buona giornata A voi